A pochi chilometri dalle porte di Milano, immersi nel verde della pianura padana, possiamo visitare dei luoghi dal sapore antico, i fontanili. Negli ultimi anni ne sono stati restaurati più di 20. Si tratta di sorgenti di acqua dolce in parte naturali ed in parte opera dell'uomo. Utilizzati principalmente per scopi agricoli, erano considerati dei beni preziosi dalle prime civiltà che attorno ad essi realizzavano i principali centri abitati. I fontanili erano anche usati come fonte battesimale. Ne abbiamo testimonianza anche a Milano, in piazza Sant'Eustorgio. San Barnaba praticò i battesimi sul corso della Vettabia.